Al ventinovesimo Lascoli passa, ficcante passaggio per Bredi che controlla, porta il pallone sul fondo, poi sul sinistro e scodella per Greco che prende la mira e di testa infila la porta granata. 1-0. Al trentottesimo il raddoppio dell'Ascoli, pasticcio difensivo tra Francini e Beruatto, ne approfitta Barbuti che batte Lorieri con tiro angolato. 2-0.